Ma tu, cioè, tu sei Bonolis, però sei anche uno che ha creato una grandissima ammirazione da parte delle persone, non soltanto per te come persona, ma anche per la capacità di giocare anche in coppia. Con Laurenti siete una coppia comica dai... Quella è un po' la storia dello spettacolo italiano, voglio dire, cominciata dagli albori, insomma, Totò e Peppino, Franco Franco e Ciccio in grassia, Staglio e Olio, che ti devo dire, Boldi de Sica. Oggi, ad esempio, vanno fortissimo Salvini Di Maio. Vedi? 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 Loro... Mi piace, mi piace. No, ma dovete capire anche perché vanno forti, perché loro hanno, ad esempio, hanno mantenuto la famosa logica delle coppie comiche che è il tormentone. Cioè, cosa vuol dire? Cos'è il tormentone? Loro hanno il tormentone dei migranti, se ci fai caso, ogni volta che intraprendi un discorso, loro chiudono coi migranti e giù tutti applausi, tutti a ri... Dimmi un problema che c'ha l'Italia, ti faccio un esempio.